Nell'ecovillaggio Tempo di Vivere, noi siamo a Marano sul Panaro, sulle colline di Modena, sopra Vignola, terra di Ciliegi. Il progetto risalà il 2010, siamo nel posto dove viviamo attualmente da due anni, siamo nove persone, ne sta entrando una decima, con sette adulti attualmente due bambini, speriamo che ne arrivino altri o da fuori o da dentro. Il nostro fulcro è lavorare sulla comunità perché siamo convinti che una scelta consapevole, come diceva Macaco prima, tantissime cose che loro dicono le ritrovano in noi, in noi e in molti altri covillaggi. Il lavoro su se stessi per noi è fondamentale per scoprire quello che siamo, scoprire quello che possiamo fare per noi, per il nostro gruppo ristretto e per chi sta all'esterno. Noi siamo, mi viene la parola, invasivi, perché per noi è importante farci vedere, far vedere che una società diversa è assolutamente possibile e necessaria sempre di più. Ci hanno abituato a vivere separati, ci hanno abituato a non avere bisogno dell'altro, è una bugia, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, insieme siamo più forti e insieme possiamo fare cose che da soli non sono arrivabili. Questa è la nostra base. Noi non abbiamo un'indicazione specifica, abbiamo cognato questo termine che ci è piaciuto che è facilitazione sinergica perché lavoriamo in sinergia, lavoriamo confrontandoci settimanalmente, la vita insieme è dura e meravigliosa. Quando è una scelta, il fatto che sia dura permette di farla diventare anche meravigliosa perché, come dicevamo stamattina, permette di togliersi gli strati, di essere se stessi veramente e di avere delle persone a cui affidarsi e che si possano affidare a noi. Quando si è uniti davvero si possono spostare montagne, loro le hanno scavate e veramente loro sono delle dimostrazioni di fattibilità, per cui se avete voglia poi vi dico dopo. Quello che voglio dirvi adesso è che siete tutti riuniti e per favore credeteci perché si può fare, siamo persone come tutti voi, non siamo supereroi, non siamo miliardari, lo potete fare tutti, bisogna crederci, bisogna faticare e il premio finale vi giuro che ne vale la pena. Grazie.